Un'opera di riqualificazione importante Siamo molto felici perché è un bel palazzo che potrà essere molto più rifunzionalizzato con questo nuovo intervento, viene ampliato perché vi si annettono i locali dell'ex scuola IPSA, verrà soprattutto utilizzato meglio nel senso che ci saranno un superamento delle barriere architettoniche con degli impianti più meccanici per salire al primo piano dove ci sono tutti gli uffici, Verranno riqualificati gli ambienti, insomma siamo molto contenti in generale di operare qui dentro perché pur essendo un edificio che funziona a tutti gli effetti quindi non è un edificio in difficoltà però siamo sicuri che con questo intervento potrà appunto valorizzarsi tutto il suo insieme E non è da sottovalutare il fatto che riapriremo dopo i restauri la chiesa che è chiusa da moltissimi anni, è stato interessante vedere come la popolazione vedendo il portone aperto per i vari sopralluoghi si è incuriosito e si è appassionato anche perché era chiusa da molto e verrà riqualificata anche tutta l'area che è occupata dai carabinieri con degli uffici anche molto più funzionali rispetto alla loro organizzazione di lavoro L'amministrazione ha scommesso tanto su questa cosa, un percorso iniziato a giugno del 2019 quando di concerto con l'amministrazione appunto candidammo questo progetto per il finanziamento del ministero Abbiamo ottenuto il finanziamento di 325 mila euro a cui poi sono seguiti gli affidamenti in particolare delle indagini geologiche, delle verifiche di vulnerabilità Dopodiché siamo passati all'incarico di progettazione che a seguito di regolare procedura di appalto è stato aggiudicato dalla commissione giudicatrice alla RTP Mi sono candidato a sindaco perché volevo la crescita del mio paese, la crescita si intende economica, culturale, degli edifici che abbiamo sul nostro territorio e ci siamo battuti per arrivare a quello che in questi giorni sta accadrando e che anche domani presenteremo altri due progetti Io sono stato un sindaco anche molto fortunato, fortunato non perché si arrivano ai risultati perché nel percorso della mia strada ho incontrato professionisti di eccellenza, professionisti che sanno fare il loro lavoro proprio perché ho visto la qualità del progetto, un progetto di 8 milioni e mezzo, che ci sarà uno straccio perché avremo 5 milioni e mezzo subito da mettere a bando di gare e quindi ci sarà un primo straccio, come già abbiamo fatto un primo straccio con l'ascensore, abbiamo usato già il progetto dall'ascensore abbiamo preso i 140 mila euro che il ministero ci ha mandato, più 40 del bilancio comunale e quindi a settembre il RUP realizzerà anche l'ascensore Grazie Grazie Grazie